Il palacaselle è un altro problema da risolvere, però è stato lo stesso presidente Mauro Castelli a scrivere sui social, che ormai sono un po' come la carta stampata, perché così è, che non aveva mai visto una celerità di questo tipo nel comunque andare a risolvere. Poi sulla tempistica ovviamente c'è ancora da discutere. Questo ci fa piacere, in realtà appena è successa questa tromba d'aria, questo evento atmosferico straordinario, ci siamo tutti portati lì perché era il punto più delicato e proprio al centro anche della dinamica e devo dire che io Mauro lì ce l'ho trovato ed era veramente un secondo dopo l'evento. Questo dimostra che la città quando è in emergenza si stringe intorno ai problemi, non guarda in faccia i problemi ma guarda in faccia le soluzioni. Devo anche ringraziare gli uffici, l'ufficio sport e l'ufficio manutenzione che stanno lavorando veramente a pancia bassa e già lunedì potremo avere qualche prima risposta sulla tempistica, ma posso dire avendone parlato anche col sindaco che è la tempistica della somma urgenza, quindi la tempistica delle soluzioni più veloci possibili, non solo per rimetterlo ovviamente in possibilità di ospitare eventi sportivi ma anche per dimostrare che la giunta Chinelli di fronte alle emergenze emergenzialmente agisce e risolve i problemi velocemente.